2 giugno è una giornata che dedichiamo come Fratelli d'Italia a questa nostra grande nazione che ha dato una grande prova di sé per l'ennesima volta affrontando l'emergenza coronavirus. Ma noi siamo qui a manifestare nel rispetto delle misure di sicurezza a Piazza Matteotti a Napoli perché vogliamo dare voce a tutte quelle persone, lavoratori, disoccupati, imprenditori, famiglie intere che sono in grave difficoltà economica perché non hanno avuto da questo governo le risposte necessarie per affrontare il disastro economico conseguente alla pandemia e quindi noi siamo qui per dare voce a tutte queste categorie per urlare che l'Italia, gli italiani vogliono rinascere, a cominciare dal lavoro e dalle imprese.